immaginati che possa esistere nel prato sotto la pediatria uno spazio pensato per i bambini e le bambine ricoverati in ospedale ok tu che cosa vorresti che ci fosse lì dentro ad aspettarli una luna e una stella io lo farei così con i puff il giardino fuori con i giochi un pallino rosso disegnato degli animali disegnati tipo uno scogliettolo una volpe un cane un gallo un'arena oppure oppure un carviattolo vorrei che in quella stanza ci fosse gli animali c'è abbia spazio per gli animali e poi un letto a castello perché a casa non ce l'ho io mi immagino questo porto con la musica il genio della lampada forse arriverà anche il genio della lampada ma qui comunque ogni bimbo potrà far correre la propria fantasia liberando i propri superpoteri un superpotere potrebbe essere andare d'accordo con tutti vuol dire che 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 fai delle cose belle dai abbracci giochi con gli altri e con gli amici il mio superpotere è felice costruiamo insieme il parco della luna per i piccoli pazienti ricoverati in ospedale scopri il progetto su www.fondazionesantorsola.it